Allora Carlo, questo è il fonte battesimale, che ci mettevano? E qua dentro, secondo la tradizione, in modo un po' dispregiativo, i pianuoli venivano battezzati con l'acqua di strama. Vabbè, ma era un modo di dire perché c'era un'industria della strama, perché i contadini portavano alle signore della piaia, e quello che è importante è che tutti i pianuoli sono stati battezzati in questo fonte battesimale. Naturalmente, una volta dire è stato battezzato con l'acqua di strama era un modo dispregiativo per definire i pianuoli, ma oggi io mi vanto personalmente di essere stato battezzato con l'acqua di strama a casa. Adesso è un'eccellenza, adesso è un'eccellenza, è un'eccellenza. Qua sono stato battezzato io, sono stato battezzato mio padre, mia nonna, il mio bisnonno e il mio Trisauro, poi mi perdo per l'anno. E vabbè, fino ai Romani, va. E vabbè, ci sta timo per farci arrivare. Ok, grazie. Ciao, ciao. Grazie, buonasera. Buonasera, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.